Oggi abbiamo ritenuto di dover organizzare questo convegno sulla sentenza dell'adunanza plenaria che di fatto ha rimesso in discussione il rinnovo delle concessioni dei maniali marittime proprio da Marina di Camerota perché Marina di Camerota oltre ad essere un'eccellenza è una località che vede numerosissime concessioni sul demanio marittimo per cui è un problema molto sentito per tutto il territorio grazie al professore Gerardo Guzzo e a tutti gli autorevoli relatori il presidente Pasca, il professor De Caterini, il presidente del TAR di Salerno, il dottor Durante e il consigliere del TAR Campania, il dottor Palligiano oggi si tiene questo importante convegno con l'attenzione anche delle organizzazioni sindacali nazionali infatti oggi c'è la presenza del presidente nazionale, l'avvocato Capacchione che ci informerà anche su quelli che sono gli sviluppi che si stanno avendo negli ultimi giorni in relazione al tavolo tecnico istituito presso il governo chiaramente oggi lanciamo non solo un appello all'unitarietà di un settore che ultimamente è messo veramente in difficoltà soprattutto perché non si conosce il destino di tantissime aziende e voglio ricordare soltanto nel nostro territorio, quindi nel comune di Camerota vi sono oltre 70 concessionari con un indotto di circa 300 lavoratori per lo più sono aziende a conduzione familiare e questo chiaramente comporta una serie di incertezze e di dubbi sul futuro delle nostre aziende è un tema purtroppo attualissimo e che resta attuale quindi diciamo bisogna fare i conti probabilmente non è stata detta ancora l'ultima parola l'iniziativa, cioè la soluzione del problema chiaramente è una soluzione politica e quindi è il governo, perché ormai le leggi le fa il governo il Parlamento ratifica, quindi è il legislativo che deve risolvere il problema io l'ho detto anche in altre occasioni quando si attendeva l'esito della decisione della donanza plenaria io ritenevo che forse si doveva provvedere ben prima, non c'era bisogno di attendere e questo mio convincimento è confermato perché il giudice fa comunque il giudice e la legge è quella che chiaramente prevale sulla sentenza quindi poi la situazione si è incancrenita io spero che si trovi una soluzione perché è chiaramente un settore in crisi che rappresenta un po' il motore dell'indotto economico di tanti altri settori un settore trainante soprattutto per località a forte vocazione turistica come per esempio la mia terra e il Salento come qui nel Cilento Sicuramente una giornata importante, un tema molto sentito e discusso viste le tantissime attività che noi abbiamo sul nostro arenile non dimentichiamo che Camerota ha 20 km di spiagge che grazie a questi arenili vivono tantissime attività l'indotto è di centinaia di famiglie che da anni hanno creato davvero un lavoro che dà spazio a tante famiglie oltretutto il terzo settore non è da meno è davvero stata una giornata importante ci auguriamo che questo problema sia risolto ovviamente noi dobbiamo tutelare tutte queste famiglie che vivono grazie a questo lavoro che si sono inventati molto spesso e che tanto lustro dà al nostro territorio soprattutto perché sono aziende che hanno lavorato difendendo il nostro territorio e facendo sostenibilità dobbiamo anche dire che hanno fatto grossi sforzi economici alcuni di loro si sono indebitati per anni pur di portare avanti un qualcosa in cui credevano ecco è proprio il credere che fa la differenza e quindi bisogna tutelarli tutelarli anche perché Camerota è preoccupata di eventuali flussi esterni che possono ovviamente interessare cose poco gradevoli quindi ritengo che è giusto che il governo centrale valuti queste situazioni è chiaro che le spiagge non sono proprietà di nessuno bisogna regolamentare chi non ha intenzione più di continuare a fare il lavoro come quello di gestire un lido balneare eventualmente decide di riconsegnare all'ente la concessione e non di venderla questo non è possibile perché l'arenile di Camerota non è la fontana di Trevi per quanto ci riguarda siamo vicini agli operatori del settore e speriamo che il governo centrale agisca da buon padre di famiglia che ovviamente è previsto dalla Costituzione Penso che sia uno degli argomenti più importanti che interessa questa parte di costa del Cilento che vede insieme Camerota, Palinuro perché l'ho detto prima intendo ripetirlo oggi questa è una località che vive di turismo balneare motivo per cui è giusto che si vada verso una organizzazione disciplinata di quello che è l'arenile mettiamola così e oggi veniamo anche da un protocollo che abbiamo siglato non più tardi di qualche giorno fa con la Regione Campania rispetto al master plan del litorale sud della provincia di Salerno che parte da Pollica arriva fino a Sapri quindi se è vero come è vero che la Regione Campania ha messo insieme questi 13 comuni rispetto ad un progetto che vede come attore principale la costa a noi come amministrazione non può che richiamarci la responsabilità di accompagnare quelli che sono i processi per cui bene ha fatto oggi Camerota attraverso questo incontro tecnico formativo perché ritengo che come ho detto poc'anzi e questo è un argomento che va disciplinato quindi io utilizzo questo termine rispetto a quelle che sono le normative e per cui bene hanno fatto gli operatori a richiamare intorno a un tavolo sia il parterre tecnico ma anche quelli che sono i ruoli della politica iscriviti al canale